Ciao, oggi voglio mostrarvi uno dei miei progetti più tardi, l'artuino breakout Questo è un clone dell'articolo 1976 Atari Breakout Arcade Non è una replica perfetta, ovviamente Ho fatto con un Arduino Pro Mini, ma funziona perfettamente su Arduino Nano, Arduino Uno e probabilmente in molti altri bordi Arduino e clones, in realtà Ho anche usato un convertito di volta in volta per aiutare i 5V all'Arduino Pro Mini Come i miei due due mini Arcade Cabinets, l'ho fatto usando un bianco e bianco 4 inch CRT I-Bolt su Aliexpress Comunque funziona con ogni monitor con un input video composito L'audio è provato direttamente dall'Arduino Il progetto è molto semplice Usa solo due resistorsi per l'output video Un potentiometer 100 Kilo Ohm e un botone Il mio primo cabinet, Pac-Man, era usato usando MDF Ma è stato molto lavoro e non ero davvero satisfico con il risultato Quindi per le prossime due cabinet, Space Invaders e Breakout Ho imprimato il cabinet con il mio Handel 3 Pro Printer Ho dovuto ammettere che non sono ancora molto bene con la imprimazione 3D Quindi i cabinets non sono molto buoni Ma non sono troppo preoccupato Perché, come ogni altro progetto Arduino che ho fatto Saranno in una cappella e bianco sempre in mia casa Ho lasciato il link per il tutorial Con il codice Arduino in descrizione del video In descrizione